E allora, Proppi può rimanere qui? Se lui non viene, andremo sul mare del nord. In Spagna? Bella però. Spagna? A chi tocca dare gli schiaffi? Sono me! Allora datti uno schiaffo da sola. Ha sgrammato! Chi punisce gli errori? Sono me! Cioè, io... Troppo tardi, Burak schiaffeggialo! Come ti sei permesso? Ehi, ma che fai? Chiedete scusa a Etienne, vi mando tutti a zappare. No, no, non ci penso proprio. È strano, e poi è innamorato della signorina Schnabestad. Oh, che carino! Davvero? Sì? Nell'armadietto ha un alzarino con le sue foto. Alta! Nell'armadietto ha un alzarino con le sue foto! Ho detto alta perché si dice altarino! Che cervelli bacati! Che c'è? Ma lei ci porta fino al diploma, vero?